Ciao, creatura. Io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cosa I, I, S, M, A. Oggi sfogliamo così brevemente, diciamo, il catalogo Lidl, proprio perché mi dispiace lasciarvi senza un video e perché adesso mi è venuta voglia di farlo e quindi visto che ho recuperato questo catalogo qua lo sfogliamo insieme, molto molto easy, ecco. Anche perché ci sono le offerte, quelle per la festa della mamma, perché il 10 maggio, non so questo video quando verrà caricato, se sarà prima o dopo, però. Auguri a tutte le mamme. Il tuo prezzo Lidl ogni giorno ha una miglior qualità sotto prezzi. Grazie. Dall'unità, vabbè, non è importante, ma tra l'unità di 4, 05, domenica 10, 05. Sfogliamolo brevemente così, proprio in modo molto tranquillo. Soprattutto per i suoi della carta, più che per le offerte. Soprattutto per i suoi della forza giornata, più che per i suoi della carta, più che per i suoi della carta. Un'altra forma, per i suoi. Soprattutto per i suoi di sottot e comunque a me manca tantissimo il Tiger che credo sia chiuso in più non posso andarci perché quello dove vado io è in un'altra regione quindi purtroppo chissà quanti di voi mancherà un posto così con queste cose così stupide cose che non sono di nessuna necessità però lo stesso proprio per quello è bello e manca perché manca un po' di normalità diciamo normalità poi quella che normalità non esiste c'è ci sono le cose giro tra i sapori d'Italia ho fame eccola qua perché la mamma è sempre la migliore ecco qua le offerte quelle della festa della mamma tra lunedì 4.05 cuori ripieni pasta fresca all'uovo al pomodoro quindi sono rossi sono gli stessi secondo me che avevano proposto per San Valentino pasta fresca all'uovo al pomodoro cuori ripieni a base di ricotta pomodoro e mozzarella di bufala con pala top 1,49 euro coricini di patate piccolore 1,29 euro formaggio fresco a forma di cuore al naturale aromatizzato con peperoncino piccante o prezzemolo 1,49 euro poi c'è il cuore di pizza dicevo cuore di pizza con salsa di pomodoro e mozzarella a 1,79 euro queste sono le stesse cose che davano per San Valentino dettagli poi c'è il souffle al cioccolato con ripieno al cioccolato bianco con ripieno alla fragola o cioccolato ripieno alla fragola cioè l'interno è comunque ripieno alla fragola di fragola e quindi è rosso però c'è il cioccolato pure il cioccolato bianco 1,99 euro poi pigneri pieni con panna e preparazione alla marina 3,29 euro non mi fanno tanto voglia queste cose di più la pizza mi fa voglia questo sì mi fa voglia guardi graffi nel ripieno ai frutti rossi questo mi fa voglia anche se il ripieno mi sembra piccino 0,49 euro dessert al limone o ribes rossi 1,99 euro cioccolatini belgi a forma di cuore 1,99 euro torta alla fragola 5,79 euro sembra una torta a gelato tipo però sì infatti è poco frigo smalti tante tonalità scelta 1,49 euro la confezione tutti quei toni del roso rosso un po' anche beige i colori più brutti insomma scasso sto scassando ho del parfum 4,99 euro i profumi dopo agli oli due peli a 0,69 euro e dopo agli età e rotoli due peli 1,79 euro e poi via di fiori tantissimi fiori giustamente di solito alle mamme si regalano queste cose i fiori rose 4,99 euro rose in vaso 2 euro 4,99 euro dipende dalla grandezza del vaso poi questo mi sembra un vaso più è in ceramica questo è un vaso in plastica rose in confezione decorata 4,99 euro composizione plureale 3,99 euro con i fiocchietti non lo so fa la enopsis la 99 fa oph a casca c'è il sumino cardenio 5,99 euro e poi c'è il terriccio per rose 1,99 terriccio per orchidee 0,99 terriccio per piante da vaso e da terrazzo 3,99 euro poi dato giovedì 7 maggio alberello di fucsia 8,99 bouquet assortito 8,99 rosa singola 1,99 euro non so leggere 5,99 euro un'altra di questa di bladenia 8,99 euro poi l'orchidea 1,99 euro dentro nel vasetto credo sia di vetro poi c'è questa orchidea invece con quest'altra confezione qua plasticosa 3,99 euro poi c'è questo vasetto molto carino 7,99 euro super mamma è scritto super mamma e qua c'è scritto composizioni anturium regiso di 20 cm 4,99 euro con il suo vasetto di vetro quindi queste sono tutte dentro la terra a parte questo che è di note dentro il vasetto non mi piace questi invece sono regisi dentro l'acqua non mi piacciono se devo regalare una pianta la regalo con la terra quindi è una pianta viva fiori recisi non mi piacciono da regalare e da ricevere poi qua abbiamo anche le offerte da giovedì 7 e sono sol e mar quindi cosa sono quelle spagnole non mi ricordo no forse no forse sì no non ho ne ho idea fammelo sapere nei commenti prodotto tradizionale del portogallo ok perfetto 0,49 scopri nei nostri punti vendita tante altre gustose spiziosità qui c'è un prosciutto con un tagliere coltello non voglio guardare tutto voglio solo spirciare un po' quella spiegata di carne tante cose questo l'ho preso su come andare in una buona un'ora e trentanue biscotti cose molto prosciuttose poi un biletto di patate crema catalana preparazione gastronomica in ciotoli di terracotta 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 crocchetti di merluzzo nordico spicchi d'aglio sotto aceto che buoni no sto schiaffata beh ma sicuramente c'è a chi piacciono questi mi piacciono i semi di ciro sono giganti tostati e salati buoni 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 snack di mais olive grandi con nocciolo snack di mais bene snack acqua vestiti per i bambini non ci interessa poi qui pulizie primaverine occhiali da vista da lettura da tenere sempre con te pomada per ferite scottature cerotto spray o spray emostatico per ferite ma dai cerotto spray non ho mai provato anche a casa siamo tutti grandi chef con il test è un nuovo modo di cucinare mamma mia super fantamega futuristico questo con il display anche tipo un mini computer per me anche troppo 349 euro il miglior fai da te una linea di attrezzi a regola d'arte coloriamo tutti i muri tutte cose per fare cose in casa giustamente visto che ancora non si può uscire liberamente la tua casa al top ma al top e all'oea anche un solo al top citazione ci sono le girandole da giardino sono orribili senza offesa lì a parte questa forse no forse queste quelle che si appendono però sono un po' leggermente inguardabili ecco ho detto proprio così questi puff sono carini che non stai vedendo ovviamente che c'è questi puff qui sono carini sono gonfiabili rivestimento resistente con chiusura lampo il lato inferiore idro repellente 14 euro 99 beh questi mi piacciono anche se le fantasie non mi piacciono tantissimo però mi piace l'idea è finito oggi la mia torata acqua eva in offerta 1 euro e 48 per il super weekend weekend super weekend offerte valide da venerdì 8 05 domenica 10 05 c'è prosciutto la coppa il mentale il fior di grano in oggi californiale e la torata acqua minerale naturale eva spero che questo video anche se breve ti abbia fatto rilassare non so quando ci vedremo con il prossimo video perché come ho già spiegato su instagram però lo spiego anche qui per le persone che non mi seguono su instagram in questo periodo non mi sento tanto bene e quindi ho preso diciamo come una pausa però non è che sia proprio una pausa perché non so neanche io quando uno riesco per colpa dei vicini a fare i video e due quando riesco perché mi sento di fare dei video oggi mi sentivo e l'ho fatto e vi volevo dirti che ti voglio tanto bene creatura e ti saluto buonanotte buon relax ciao creatura grazie a tutti